Gianluca Doveri, partita non adatta a Debole di cuore, già due partite sotto di risultato, domenica per poco non si faceva un'antempresa, oggi ci si è fatta. Sì, è andata bene perché siamo riusciti a ribaltare per due volte una partita che non era per nulla facile perché ogni squadra viene qui e gioca tutto in difesa puntando sulle ripartenze e loro avevano due o tre giocatori davanti bravini a sfruttare i contropiedi. Abbiamo sofferto due occasioni dove abbiamo preso gol, gol evitabili perché non ci possiamo permettere di prendere questi gol in contropiede però fortunatamente siamo riusciti a ribartarle e a portare altri tre punti al Ponzacco. Domenica a Castelnuovo c'è un grande big match. Sì, ora tutte le partite sono importanti, domenica è chiaro che andiamo a affrontare una squadra che tecnicamente per ora ci sta dietro e sì che sarà una bellissima partita e dobbiamo dare il massimo per agguantare il risultato. Teccheri tra i analisti e i diffidati, per fortuna non sei stato ammunito quindi disponibile per Castelnuovo. Ecco, cosa c'è secondo te, questi tifosi, cosa possono portare a questa squadra? Gli ultimi dieci minuti è stato un po' una bolgia lo stadio a Ponzacco. I tifosi sono importantissimi e noi dobbiamo riuscire domenica dopo domenica con i risultati a portare sempre più tifosi al nostro seguito perché sono il dodicesimo uomo in campo e quando le squadre vengono qui a Ponzacco devono avere paura.